Professor Giovanni Capelli, i 60 anni oggi come vanno vissuti anche in vista di arrivare bene alla terza età? Noi naturalmente sappiamo che la durata della vita si è allungata moltissimo nel nostro paese, abbiamo sempre più persone e una percentuale sempre più alta, quasi il 30% degli italiani sono oltre i 60 anni, questo significa che deve essere un'età della vita vissuta pienamente e in realtà l'attenzione al buono spirito, anche finché si continua a lavorare ma anche dopo, l'attenzione all'esercizio fisico che non deve essere necessariamente quell'esercizio esagerato che viene proposto in determinate situazioni per competitivo, deve essere un atteggiamento quotidiano al volersi muovere, al camminare, al fare degli esercizi strutturati per preservare la propria riserva di salute che è fondamentale. Noi ci possiamo permettere oggi nel nostro paese di avere degli ultra sessantenni che via via diventeranno ultra settantenni, che hanno una migliore riserva di salute, vivono meglio, dobbiamo puntare moltissimo non solo sull'allungamento della vita ma sulla qualità di vita e il modo di vivere questi anni oltre i 60 e le idee del professor Gray che ha sempre parlato di queste cose ci stanno per dare una guida, ci aiutano a seguire una guida proprio per vivere meglio e col miglior atteggiamento possibile questa età che una volta si chiamava d'argento ma oggi alla fine non è d'argento solo per i capelli, può essere davvero un'età d'oro nella quale si apprezzano una serie di cose della vita che magari negli anni precedenti per correre nella vita quotidiana sul lavoro si sono un po' messe da parte, non bisogna perdere questa occasione.